Il Capodanno tra fuochi e spumante si festeggerà rigorosamente a casa, almeno per la stragrande maggioranza degli italiani che, visti i tempi di crisi e i costi di una cena al ristorante, preferiscono trascorrere il saluto al nuovo anno tra le mura domestiche. Secondo il sondaggio della Confesercenti SVG, l'80% degli italiani, circa 38 milioni di persone, continuerà a celebrare la notte di San Silvestro a casa o presso amici e parenti, ma investirà un poco di più nel cenone, la cui spesa media, 92 euro, appare in leggera salita, più 3 euro, in confronto al 2012. Anche le associazioni dei consumatori confermano la tendenza. Solo una famiglia su sei festeggerà Capodanno al ristorante. La maggior parte degli italiani passerà la festività a casa, magari per uscire solo dopo cena, ma anche scegliendo tale opzione vi sono rincari all'orizzonte. L'Osservatorio nazionale FederConsumatori ha monitorato, infatti, i costi della tradizionale cena di Capodanno, registrando un aumento del menù classico, pari al più 2%. La spesa media per il cenone ammonterà 39,51 euro a persona, pari a 237,06 euro per una famiglia composta da genitori, due figli e due nonni. A causa della forte crisi, affermano Adosbef e FederConsumatori, le famiglie saranno costrette a modificare il proprio menù, portando in tavola prodotti più economici. Insomma, anche se sembra indirizzata verso l'esaurimento, la crisi continua a far sentire il suo effetto sulle feste degli italiani. Secondo il sondaggio, Confessercenti si asterranno dalle celebrazioni per il nuovo anno quasi 3,8 milioni di connazionali. Un dato che non stupisce, visto che il 46% degli intervistati ammette di non riuscire ad arrivare alla fine del mese con il proprio reddito.